Ciao a tutti, sono Davide Marani, ho 52 anni, convivo un figlio di tre anni. Faccio lo scultore da quando avevo 11 anni, ho iniziato i miei primi passi grazie a Giuseppe Parco, proprio qua nel Palazzo del Parco, nell'Accademia di Sud. Ho proseguito gli studi a Firenze, mi sono specializzato, ho più di 110 mostre in tutto il mondo. Col tempo mi sono anche impiegato nel restauro conservativo, lavoro spesso per enti e per la sovrintendenza genoese. Il mio impegno per questa città è che la città vivi una cittadinanza attiva, non passiva. Ho deciso di intervenire e di propormi all'interno di un gruppo, che poi in seguito ha scelto me come rappresentante, proprio perché è importante cambiare qualcosa in questa società, in questa città, in questa provincia. Troppo tempo si è pensato a qualcosa di diverso, che si potesse andare avanti nella solita maniera a quei soliti giorni. Noi vogliamo che ogni cittadino partecipi con noi. Dai, scusa, presentazione personale, poi avrei cose di... Comunque, io sono cresciuto a 20 mili, mi sono trasferito qua da 5 anni e ritengo questa mia città adottiva una città importante nella verità. La amo perché la vivo insieme alla mia famiglia. Grazie. 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 Grazie.